Per le valigie di mamma e per il lavoro di papà. Perfetta per viaggi in completo relax, Tempra Station Wagon è un'auto ideale sia per la dinamica vita di città, sia per i sereni weekend nella natura. Tempra Station Wagon, più spazio alla vita. Punt, punt e virgola, punt e un punt e virgola. Dunque, escusimi, noi, noi volevo assaguare l'idris. Si faccia un'altra risata vicino alla vita. Ma mi facci il piacere, se ne votino. Vi piacerebbe che ti siaccherebbe un occhio. Ma, un fruocco. Grazie, comandatore. Grazie. Esegui. Esegui distinta. Io sono un tipo che piace un chiuso. Hai schifo! A noi queste frasi sotto svafro non ci convincono, è chiaro. E l'accendo, lo voglio mettere dove voglio io. Anche sul comodino, volendo. Vi provo e segui. Grazie. Buongiorno. Tu senti, vedete, te, te! Buongiorno. Tu senti, vedete, te! Buongiorno. 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 Se vuoi conoscere, se vuoi giocare, se vuoi un cucciolo, se vuoi, c'è Bambi, un classico originale Walt Disney da collezionare in videocassetta. Da Walt Disney Home Video, Bambi, e con Bambi puoi vincere un mondo di premi. E la notte per loro è così giovane, sono tutti sotto l'effetto di Turtel, la birra senza alcol, che tiene accesa a lungo la voglia di conoscersi, di parlare, di divertirsi. Turtel, solo per gente sveglia. Grazie.